Non è nostalgia dalla vecchia cara Lira, il libro dell'onorevole Giorgio Lamalfa, l'Europa in pericolo, la crisi dell'euro. Un volume pubblicato nel 2000 ma aggiornato con i nuovi dati attuali ci racconta in tempi ancora non sospetti che la moneta unica sponsorizzata troppo negli anni passati non funziona. 12 anni fa il parlamentare italiano lo aveva già preannunciato, la moneta unica crea problemi per un'Europa che ha sistemi economici difformi all'interno della stessa Unione Monetaria. La moneta unica, l'euro, avrebbe dovuto far crescere tutti i paesi aderenti, più o meglio di prima. La Germania, che con il suo comportamento di ricore pretende che tutti i paesi abbiano la sua stessa disciplina, crea però problemi. Non è tanto la nostalgia della moneta, il problema è sapere se l'Europa con una moneta unica fa crescere tutti i paesi europei più e meglio di prima o se abbiamo trovato dei problemi. L'euro, con queste regole, con questo comportamento soprattutto della Germania, che pretende che tutti i paesi abbiano la stessa disciplina, grandi tedeschi, su tutti gli aspetti della vita economica, l'euro sta creando enormi problemi. E non è mancato neppure il drammatico paragone con la Grecia che ha registrato circa 1700 suicidi. L'euro sta creando enormi problemi. Se uno va in Grecia, vede un paese disperato. Ha detto l'altro giorno il Presidente del Consiglio, in Grecia ci sono stati 1760 suicidi. Non dobbiamo rischiare di fare la stessa cosa. Siamo ancora in crisi, ma l'Italia ce la farà. Ed è incisivo il monito di Lamalfa. Bisogna andare a votare per scegliere chi debba rappresentarci, non importa se sia di destra o sinistra, purché si voti nel pieno della democrazia. I cittadini, intanto, è bene che si rendano conto. Quando io leggo che il 40% degli italiani forse non vanno a votare, dico, sbagliano loro. Perché quei cittadini che non vanno a votare, vuol dire che rinunziano a dire la loro, votino per quello che ritengono essere o la soluzione migliore o il male minore. Ma votino.